Le dichiarazioni del Presidente della Repubblica sono un richiamo all'assunzione di una responsabilità forte. Il Governo, se c'è, a questo punto domani deve presentare le riforme strutturali richieste in Europa a partire dalla riforma delle pensioni. Qui si tratta di evitare il baratro, di evitare il disastro italiano, per cui si agisca ora, subito e non si perde altro tempo.